Vado a vedere cosa c'è gli avanti eh! Bene fans, questo è il Passo del San Gottardo, non c'è niente di significativo, c'è un laghetto, ma vabbè, posso fare in versione da recuperar l'una, bello, ma qua, ma poi va, boh, ma perché mettono il pavè? Il pavè? Eh cos'è? Si chiama Porfido, sì San Pietrini, dai sì ho capito ma perché non la squadra non posso rimettere giusti cosi uno a uno? Ma boh, comunque è bella la strada, ma è stranissima, ma perché? Magari è antichissima e essendo una cosa antichissima, hanno voluto lasciare un po' di storicità, l'hanno lasciata così coi San Pietrini. Qua si è lasciata distrutta quindi ha messo l'asfalto. Qua c'è il Vignaio, cos'ha un po'. Dai 1,58 ci sta, onesto. Tu c'hai il cash a portata di mano? No, 10 euro, basta in cash. Ma li prende, gli euro lo devo fare col banco ma? No, farà col banco ma perché non si sa mai. Mi sollevi il tappo per piacere. Scusa. Eh, non me lo aspettavo, non usciva. Te la faccio, lo metto giù. Come vuoi? Ho metato il pavimento praticamente. Non è facile come sembra. Mi sento se però ho centrato i buchi. Sì, sì. Cioè me le sono sparate un po' addosso anch'io ma niente di che. No, a me levate la mano. Beh, ma la benzina zinfetta.